Henry, porca di quella puttana troia, vacca a str... Ciruzzo, non si dicono le parolacce, ma non fanno lo stazito, porca di quella puttana... No, Henry, seriamente, porca di quella troia, dove sono i riassunti dei libri del Taste from the Pizzaplex? Avevi detto che li avresti fatti? Non avevo detto che li avrei fatti. Ti ho capito, però, dai, c'è, c'è, il minimo, c'è, hai fatto, hai fatto gli incubi del faz... Hai fatto gli incubi del Fazbear, fai anche questi, no, c'è, è la stessa cosa. È quello il problema, bro, è la stessa cosa, letteralmente, siamo entrati in un sistema in cui ogni volta continuano a produrre la stessa identica cosa, ma con un nome diverso ed eventualmente affiliato ad un gioco che è appena uscito e ha fatto successo così che potrà vendere di più e a quel punto leggi la storia e dici, mh, bevi, carino, forse, sei. Perché cercano di produrre tre storie al libro, si parla di undici libri per ogni collana, porca di quella troia, come puoi pretendere che inventino così tante storie? Tutte diverse, sono tante, sono, 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 sono più di trenta, questo è sicuro. Quindi mi stai dicendo che non ti piacciono? Non sto dicendo che non mi piacciono, non l'ho ancora letto, però le recensioni non promettono bene. Senti, quando escono i prossimi, forse, forse, se sono belli, allora ci posso pensare, altrimenti, insomma, ho soldi limitati e anch'io non posso buttarli in libri che non mi piaceranno. Cioè, hai capito cosa voglio? Lasciami solo. Vabbè, vorrà dire che mi cercherò i libri da solo, vaffa a culo, sì, vaffa a culo a cat. Molto bene, adesso a chi posso chiedere per trovare i libri del Tales from the Pizzaplex, di cui le storie non sono nemmeno tutte ambientate nel Pizzaplex, siamo solo al primo numero, parca di quella puttana, ma voglio effettivamente dire il suo... Se solo ci fosse una specie di albero magico che può aiutarmi a... Salve, signor albero magico, mi dica, lei per caso conosce gli incubi del Fazbear? Fantastico, quindi, immagino, insomma, chita ci acconsente, quindi conoscerà di sicuro anche Tales from the Pizzaplex, no? Ok, meraviglioso, immagino che valga la stessa regola. Sì, allora, me li dà, possibilmente, se ce li ha, nel senso, lei è un mistico albero magico e saggio, nel senso di sicuro troverò un modo di ottenere... Allora, almeno me lo può dire, insomma, è tanto saggio, si vede la faccia, si vede anche da altro, si vede la saggezza, insomma, dove la tiene, però, insomma, hai capito, insomma, non c'è... Quindi, sì, ecco, insomma, magari se me lo dici... Per favore... Per favore, per favore, voglio quei libri... Non riesco a trovare nessuna parte... Per favore... Non li trovo... Albero saggio... Tu... Tu mi darei quei libri... Hai capito? Hai capito, albero saggio? Albero saggio? Albero saggio... Non riesco a trovare nessuna parte... Non riesco a qualcosa...